Al quarantesimo Maimone fa tutto da solo, difende la sfera, scappa via destra, prende il centro del campo, ancora Maimone col 7 sulle spalle, arma il mancino Maimone! Sotto l'incrocio dei pali, un euro goal al Pietro Cangemi, quello che vale il 2-2 al comprensorio del Tindari, fa tutto benissimo, ristabilita la parità del punteggio.